Cari amici buongiorno, vogliamo darvi un breve aggiornamento della vicenda a cui molti di noi tengono ovviamente del nuovo stadio di calcio Erasmo Iacovone che deve essere pronto in vista dei giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Giorno 5 luglio i nostri uffici comunali e li voglio ringraziare per il grande lavoro che hanno svolto, hanno inviato una pecca alla costituenda RT Red Sport che come sapete ha presentato un progetto molto importante per l'intero quartiere, quello non è soltanto un impianto sportivo, deve rigenerare la vita di quel quartiere in vista dei giochi del Mediterraneo ed è il motivo per cui non volevamo consumare altro suolo. Voglio anche ringraziare Asset Puglia che sta correndo davvero tanto per le iniziative relative alla mitigazione del rischio idraulico. A valle di questa definizione, di questa fase istruttoria noi procederemo verso la dichiarazione di pubblico interesse e saremo pronti a fare un percorso importante. Cosa manca adesso davvero per realizzare il nuovo stadio? Guardate mancano solo due elementi. Il primo sicuramente importantissimo, le coperture finanziarie da parte del governo. Invitiamo il commissario Ferrarese in maniera risoluta a consentirci di procedere speditamente con i soldi del governo e a provvedere alla provvista che era stata in qualche maniera già definita dai precedenti governi. E poi serve un'espressione chiara di aderenza al progetto da parte di chi? Della nostra amata squadra rosso-blu, del presidente Giove, perché è evidente che senza il mondo dello sport quell'impianto e regime non trova l'equilibrio del suo piano economico-finanziario. Fatemi aggiungere altri due elementi soltanto. Perché dobbiamo rifare lo stadio ex novo? Perché in qualche maniera i tecnici ci dicono già che non si può riqualificare l'esistente e ci dicono anche che nei 700 giorni previsti per il progetto si può arrivare, se non perdiamo altro tempo prezioso, in tempo per i giochi senza particolari problemi, insieme alle garanzie finanziarie che, come vi dicevo, il privato presenterà. C'è poi un'altra questione. Il commissario ferrarese legittimamente è scettico sul progetto di finanza. Se lui intende aumentare la dotazione finanziaria pubblica e realizzare da solo lo stadio lo può fare, può acquisire il progetto che è pronto dai privati in qualunque momento c'è grande disponibilità. Insomma, il comune e i privati hanno fatto la loro parte. Siamo pronti, adesso aspettiamo un'espressione di chiarezza da parte del presidente Giove, da parte del commissario ferrarese e questa vicenda si può risolvere in tempo utile per i giochi, nel migliore dei modi per tutti i tifosi e tutti i residenti del quartiere Salinella.